Due ragazzine si incamminavano sulla strada per tornare a casa, il vento cominciò a spirare sempre più forte e il cielo si fece scuro. Era evidente che una tempesta di neve si stava abbattendo sulla zona. Jenny avvertì un senso di preoccupazione, ma cercò di tranquillizzare sua sorella più piccola, dicendo che avrebbero presto raggiunto il villaggio e sarebbero stata al sicuro. Man mano che proseguivano, la neve cadeva sempre più fitta, rendendo difficile vedere anche a poca distanza. Le due ragazze si misero ad accelerare il passo nella speranza di trovare qualche riparo, ma la tormenta continuava a imperversare con una furia crescente. Si ritrovarono disorientate e senza alcun punto di riferimento. I loro vestiti erano ormai completamente imbevuti di neve e il freddo iniziava a farsi sentire, pungendo la loro pelle esposta. Clara la madre delle due ragazzine, vedendo che le figlie non tornavano, iniziò a preoccuparsi e insieme a Johan uscì alla ricerca delle bambine con una lampada, ripercorrendo il sentiero che di solito faceva per raggiungere il villaggio vicino. I due cercarono e gridarono disperati, ma non ricevettero risposta. La notte divenne fredda e insopportabile e dovettero tornare a casa senza aver trovato le bambine. All'alba, Clara e Johan andarono ad avvisare le autorità, ma anche le ricerche di quella giornata non portarono a nulla. Nonostante fossero stati organizzati gruppi di ricerca, dopo due giorni, con temperature di meno 8 gradi centigradi, le ricerche vennero interrotte. Le bambine vennero date per morte e non aveva senso andare avanti, soprattutto perché la neve stava nuovamente coprendo il terreno, quindi era probabile che i loro corpi sarebbero stati riconosciuti solo in primavera. Clara e Johan, nonostante tutto, continuarono a cercare per diversi giorni, ma senza successo. Anche loro iniziarono a perdere le speranze di ritrovare le figlie. Fu solo il parroco del paese a continuare la ricerca, chiedendo ad alcuni contadini di aiutare gli August per qualche giorno e di percorrere i sentieri più impervi, così da poter dare una degna sepoltura alle bambine, nel caso in cui fossero state trovate morte. Fu uno dei contadini, Alex Lind, sollecitato dal sacerdote, che un mattino seguì il sentiero che le bambine avevano erroneamente preso, e quel giorno accadde qualcosa di miracoloso. Era il 5 dicembre del 1901 e l'uomo trovò Jenny e Augusta raggomitolate sotto l'albero, ancora vive, anche se in uno stato di semi in coscienza. Le bambine furono portate immediatamente all'ospedale di Chisa, dove lottarono per sopravvivere ancora diversi giorni. Erano passati 21 giorni, ma a sorpresa erano ancora vive, nonostante il freddo e la fame. Le due ragazzine, Jenny e Augusta, erano solite percorrere quella strada nei boschi molte volte, ma in quell'occasione, tradite da una fitta nevicata, si persero e presto persero l'orientamento. Anche se sbagliare strada può capitare a chiunque quando si cammina nei boschi, anche a persone esperte, è difficile non chiedersi perché la madre non abbia mandato con loro un adulto, anche solo un vicino di casa. Comunque, Jenny e Augusta si ritrovarono inaspettatamente perse e la sera iniziò a scendere. Trovarono rifugio in una piccola grotta sotto le radici di un grande albero, protetti dal vento grazie a una gigantesca roccia che copriva parzialmente l'entrata. Era ormai tardi e anche Johan, stanco, stava tornando a casa, all'improvviso, in un lampo, una figura spettrale apparve davanti a loro. Era una donna, avvolta da un mantello bianco come la neve stessa. I suoi capelli erano di un intenso nero e i suoi occhi brillavano di un freddo blu ghiaccio. Jenny e Augusta erano al tempo stesso spaventate e affascinate dalla sua presenza. Fu in quel momento che apparve loro una donna, con i capelli lunghi e neri, vestita di bianco. Questa donna era apparsa loro come un'ombra tra gli alberi, con la pelle pallida che faceva sembrare i suoi capelli quasi irreali e una bocca rossa come il fuoco. Il suo tocco era freddo come la neve, ma la sua presenza trasmetteva loro una sensazione di calore. Il suo messaggio era chiaro, il freddo «Chi siete?» chiese Jenny, cercando di mantenere la calma. «Io sono Yuki Onna, la donna delle nevi», rispose la figura. «Ho visto che vi siete perse nella tempesta e vi trovereste presto di fronte alla morte. Ma ho deciso di aiutarvi. Seguitemi». Le due ragazzine non sapevano se fidarsi o meno, ma la disperazione le spinse ad accettare l'aiuto della misteriosa donna, Yuki Onna le condusse attraverso un fitto bosco, camminando con grazia tra gli alberi e lasciando dietro di sé una scia di neve intatta. Dopo un po', giunsero in una piccola capanna nascosta tra gli alberi. Il fuoco crepitava nel camino, emanando un calore benefico che scaldò immediatamente le due ragazze. Un delizioso profumo di cibi appena preparati si diffondeva nell'aria, stimolando i loro appetiti affamati. Yuki Onna offrì loro del cibo e delle bevande calde, permettendo loro di ristorarsi. Nel frattempo, iniziò a raccontare loro di come lei stessa si fosse trasformata in un'entità soprannaturale, costretta a vagare per l'eternità nelle tormentate tempeste di neve. Spiegò loro che a causa della sua stessa solitudine, aveva sviluppato un'intensa empatia per coloro che si trovavano nella stessa situazione. Dopo essersi rifocillate e aver ritrovato le forze, le due ragazze ringraziarono Yuki Onna per la sua gentilezza e chiesero se potevano tornare a casa. La donna delle nevi annuì e le guidò fuori dalla capanna, riprendendo la strada per il villaggio. Questa volta però, il vento era calmo e la neve era diventata leggera e soffice. Le due ragazze riuscirono a vedere la strada davanti a loro e a orientarsi più facilmente. Si resero conto che erano più vicine al villaggio di quanto pensassero e in poco tempo, si ritrovarono al sicuro tra le braccia della loro famiglia. Quando raccontarono loro incontro con la donna delle nevi, furono accolti con incredulità e scetticismo. Ma le due ragazze erano convinte di ciò che avevano vissuto e non dimenticarono mai l'aiuto di Yuki Onna. Jenny pesava solo 27 chili e Augusta 18 chili, entrambe avevano bruciature da freddo e i piedi erano congelati irreparabilmente. Tuttavia, i medici riuscirono a rianimarle e a curarle. Purtroppo, fu necessario amputare loro i piedi e per tutta la vita avrebbero avuto problemi di salute, incluse bronchiti e polmoniti. Dopo una lunga degenza in ospedale, entrambe poterono finalmente tornare a casa. Riuscire a sopravvivere 21 giorni nel freddo inverno svedese sembrava impossibile, eppure le due bambine ce l'avevano fatta. Raccontarono che avevano cercato di tornare a casa dopo la prima notte, ma non riuscirono a camminare a causa del freddo estremo che aveva già danneggiato i loro piedi. Si strinsero l'una all'altra per cercare un po' di calore e si nutrirono solo di neve sciolta e delle provviste che la vecchia signora aveva dato loro. La storia di Jenny e Augusta fece scalpore su tutti i giornali del nord Europa, e molti giornalisti si precipitarono a casa loro per intervistarle e cercare altre informazioni sulla loro incredibile vicenda. Nel 1913, in particolare, un giornalista di Stoccolma riuscì a guadagnarsi la loro fiducia e ottenne informazioni davvero straordinarie. Le due ragazze raccontarono di come, nonostante la loro tenera età, si erano arrese al freddo estremo, togliendosi alcuni vestiti donati dalla vecchia signora per accelerare il congelamento e mettere fine all'atroce sofferenza. Potrebbe sembrare una semplice storiella, frutto della fervida immaginazione delle ragazze, influenzate dalle continue interviste, ma c'è un dettaglio che sembra confermare questa versione insolita degli eventi. Il primo giornale che riportò la sfortunata esperienza di Jenny e Augusta nel 1901 fu lo Stgota Correspondent, e nell'articolo langòe dettagliato si riportarono anche le parole di Orian Hultgren, il contadino che salvò le due bambine. Egli affermò di averle trovate grazie a sua moglie Hulta, che gli rivelò di aver fatto uno strano sogno in cui vedeva due bambine infreddolite dalla neve lottare per sopravvivere sotto un albero, chiamando disperatamente la mamma. Il sogno era così vivido che la donna riusciva persino a indicare la zona in cui si trovava l'albero. Il contadino decise quindi di iniziare la sua ricerca proprio in quel luogo. Può essere solo una coincidenza? Forse. Ma c'è da dire che in Scandinavia il folklore è molto vivo e molte persone credono fermamente nell'esistenza di creature protettrici dei boschi e della natura. Non è infrequente che i boscaioli o i contadini facciano offerte lungo i sentieri per ottenere protezione. Quindi, forse, quella donna misteriosa voleva ripagare un favore e salvare due vite innocenti dal freddo implacabile. Alla fine del racconto, la connessione con la cultura giapponese diventa evidente. Una leggenda millenaria del Giappone era andata a intrecciarsi con la vita di una modesta famiglia svedese, dimostrando come il folklore e le credenze popolari possono attraversare le distanze geografiche e unirsi in una storia straordinaria.